Lei gioca al Super Enalotto? Sì, adesso volevo giocare, anche se forse sono in ritardo, visto che gli hanno già vinti 200.000 euro. Siamo all'Iperal di Pianteto, dove un misterioso vincitore si è giudicato più di 210.000 euro, con una schedina del Super Enalotto. Quando è stata giocata la schedina fortunata? Allora, la vincita è stata fatta questo martedì, quindi può aver giocato da domenica a martedì sera. Sapete chi è il vincitore? No, purtroppo non lo sappiamo ancora, anzi ci piacerebbe saperlo, soprattutto se fosse uno dei nostri clienti abituali, saremo molto contenti. Magari c'è ancora tempo e si presenterà? Speriamo, anche solo per dirci, ho vinto io, sono stato io, grazie ragazzi, non so. E' stato emozionante per voi? Sì, sì, molto, e non avevano ancora vinto questa cifra così importante qua da noi, c'era stato un 40.000 euro, ma così no. E' aumentata la vendita delle schedine? Ma non tantissimo, ci aspettavamo qualcosina in più, però noi abbiamo sempre una buona clientela, quindi vediamo con questo weekend. Quali sono le schedine che vengono giocate di più? La maggior parte delle schedine sono quelle da 2 o 3 euro, soprattutto quelle casuali che dà la macchina. Come deve procedere adesso il vincitore o la vincitrice per ritirare la sua somma? Deve contattare direttamente la SISAL, quindi non è obbligatorio che si presenti qui da noi, può rimanere anonimo. Grazie. Grazie.